a no no holy craps bitch se tutti quanti ragazzi sono mezzobossa e sono tornato con un video in cui vi voglio introdurre una nuova rubrica però prima di farlo a parte che l'avete già capito del titolo volevo dirvi una piccola cosa vi ricordate nel video del mio sfogo in cui avevo aperto una cartella che ho detto video da caricare e c'erano i video ne avevo spostato uno ho preso questo qua a caso ne avevo spostato uno di fuori che era un progetto nuovo che avrei caricato a breve non l'ho mai caricato perché se l'avessi caricato sarebbe stato in sostituzione della serie su Call of Duty Modern Warfare 3 perché avevo dei problemi con la disponibilità della macchina fotografica siccome i problemi si sono risolti subito continuando a fare questa serie è solo che vedo che non è molto seguita infatti se vado sulla playlist sulla mia playlist di Call of Duty Mv3 vedo che nei primi video sono seguiti il primo video ha fatto 116 utilizzazioni però andiamo verso underground 31, 32, 33, 36 poi scendiamo a DOM e qui incappiamo in un 20, 17, 10, 8 vabbè che questo l'ho caricato ieri però non è molto seguito comunque allora la domanda che vi pongo è questa preferite che finisco la serie su Mv3 oppure comincio scusate questa mia nuova serie che si chiama Giochi che lasciano il segno allora in questa serie io vi illustro un poco com'è strutturata giocherò i giochi per la Playstation 1 che mi sono piaciuti di più che mi sono più rimasti nel cuore che hanno segnato la mia infanzia come direbbe un youtuber più famoso più famoso e insomma volevo sì avevo fatto anche un video che era quello che era avevo spostato al di fuori della cartella sul video riferito al copyright insomma questa è la mia serie nuova come potete vedere se riuscite a vedere ormai che so avevo detto nel video non mi rifrega niente se tornate indietro ok adesso se tornate indietro riuscite a intravedere la miniatura del video infatti è un video su Spiro 2 che sarà il gioco il primo gioco su cui farò il video di cui ne ho già fatti due quindi se infatti vi pongo questa domanda continuo Mv3 anche se non è molto seguito anche se non è molto seguito o comincio Spiro 2 che mi piace di più di Spiro che mi piace di più di Mv3 se devo dire la verità comunque scrivetemi nei commenti vi mostro la nuova sigla non saprei ma si godetevi la nuova sigla giochi che lasciano il segno ok questa era la nuova sigla mi dispiace se è molto simile a quella vecchia ma questo è il limite che riesco a fare se tutto sommato mi piace un casino soltanto il modo in cui dico giochi che lasciano il segno probabilmente lo potrei togliere adesso ho renderizzato i primi due episodi con la voce che dico giochi che lasciano il segno probabile che se non piace ditemelo nei commenti la toglierò è questione di poco tempo perché renderizzare la intro togliendo la voce è questione di pochi secondi forse un minuto però non ci vogliono tante non ci sono tanti problemi per questo è tutto vi lascio al prossimo video scusate se è un video un poco un poco cazzuto no 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 non ha senso un video fatto così comunque questa è l'introduzione alla mia nuova rubrica detto questo vi lascio al prossimo video ciao a tutti ragazzi